Nella giornata di ieri il terribile incidente avvenuto nel tratto marchigiano-abruzzese dell'autostrada A14, un violento tamponamento tra tre camion nei cui effetti sono stati devastanti. Incidente che costato la vita a due autotrasportatori di Cepagatti Iesi. Non solo, diversi feriti e l'interruzione per ore del traffico con disagi gravissimi per gli utenti. Duro il commento di Luciana Ferrone, presidente di CNA Fita Abruzzo. Sì, assolutamente sì. Siamo in una situazione veramente pesantissima. Chiunque di noi va in autostrada si rende conto che è una situazione pazzesca, assurda, proprio incontrollabile. Sul nostro tratto, quindi fino alle due corsie, è decisamente impensabile di mettersi su questa autostrada perché sono code, 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 colonne che non finiscono mai. Una colonna riservata esclusivamente ai tir che non si possono muovere, stanno fermi là. Una colonna dove transitano i veicoli ma anche loro sono in coda. C'è questa gestione di questi lavori perenni, tra l'altro perenni, che è giusto che vengano fatti, ci mancherebbe altro, c'è la manutenzione. Ma non c'è assolutamente un controllo su questi lavori. Non c'è assolutamente un'autority, un ente specifico che controlla il funzionamento di questi lavori. Cioè voglio dire, facciamo un esempio banale, pratico, se c'è un contingentamento, se c'è una situazione pesante a livello di code, non c'è un'autority che controlla e che dice magari sospendiamo mezz'ora, facciamo defluire il traffico in maniera tale che creiamo una situazione possibile. E poi c'è il dramma degli incidenti. Incidenti che fino adesso sono stati due morti o tre morti ma che potrebbero diventare delle catastrofi. Cioè c'è necessariamente bisogno che si prendano dei provvedimenti seri e riteniamo opportuno che ci sia un'autority che controlli questa gestione di questi lavori. La vostra posizione è la posizione della CNA Fita Abruzzo, di cui lei è presidente da circa una settimana, se non vado errato, ferma rigida direi. Sì, assolutamente sì. Io parlo per perfetta e diretta conoscenza delle cose perché sono titolare di un'azienda di trasporti e di logistica. Abbiamo hub in territorio piacentino, quindi io tutte le settimane personalmente con la mia vettura faccio questi tratti autostradali. Quindi verifico con i miei occhi tutto quello che succede. Ed è una cosa lasciata completamente al caso, all'incuria, non è possibile più che questi lavori vengano gestiti in queste condizioni. Questo significa mettere a rischio, a repentaglio, la vita dei trasportatori, degli autisti e dei cittadini che percorrono un tratto autostradale. È necessario l'intervento di un'autority che controlli e verifichi l'andamento di questi opere.